Allora io capisco che lunedì è lunedì, però Dio stai esagerando te lo dico, cioè se vi racconto la mia giornata capite perché io mi lamento sempre nella mia vita, ora lo capirete, allora sveglia ore 6 e mezza e qui tutto bene, tirocino fino alle 2, dicevo finisco tirocino alle 2, tutto bene se non fosse che a lunedì 50 arrivo un temporale di quelli mai visti, io senza ombrello arrivo a casa bagnata, mi butto in doccia vestita e già lì dovevo iniziare ad avere qualche sospetto. Finisco la doccia, dico sai che c'è adesso mi faccio una bella maschera per il viso, non l'ho mai fatta nella mia vita, mi faccio il viso bello liscio, apro la maschera, tolgo la pellicola, butto via la maschera, mi metto in faccia la pellicola per sbaglio, dopo 10 minuti mi accorgo che mi ero messa addosso la pellicola e non la maschera, faccio un respiro profondo, dico 2-3 parolacce, vado a cucinare. Dopo mezz'ora di cosa cucino e cosa non cucino ho deciso mi faccio dei wuster col formaggio e la maionese, non ho voglia di fare niente, oggi dieta domani, metto sui wuster che ci mettono pochissimo a cucinarsi, però intanto decido di andarmi a asciugare i capelli, bella idea Marta. Inutile dirvi che ho bruciato tutti i wuster mentre mi asciugavo i capelli e non ho neanche sentito che si stavano bruciando e voi direte, sì però Marta questo non è il karma che è bastardo, sei tu che sei ringoglionita e avete ragione.